Alessia Del Core, Presidente dell'Associazione Nuova Mugnano, il mondo dell'associazionismo qua a Mugnano è molto presente, che cosa dovrebbe accadere perché funzioni meglio? Noi miriamo in effetti ad un coordinamento di tutte le forze territoriali perché in effetti è questo che manca oggi sul territorio, ma purtroppo non c'è una buona regia, nel senso che si parla tanto di dispute tra le associazioni, dispute che non esistono in effetti perché ultimamente noi ci stiamo riunendo e stiamo cercando di mettere tutte le forze insieme e di creare un vero e proprio programma per realizzare qualcosa sul territorio, cose importanti sul territorio. Quindi effettivamente a noi serve una regia e un coordinamento, questo chiediamo più di tutto. Perfetto, ma anche e soprattutto un aiuto da parte dell'amministrazione che verrà? Un aiuto da parte dell'amministrazione che verrà, un aiuto purtroppo non solo morale perché non basta, un aiuto in termini proprio economici, quindi purtroppo a noi servono dei fondi per poter realizzare determinate cose, non possiamo basarci solo sugli sponsor, solo sulle attività commerciali che fanno le loro offerte, che danno il loro contributo, ma ci servono veri e propri fondi, quindi si deve fare un piano proprio completo per poter arrivare all'obiettivo. Anche perché i risultati si vedono, sono ben visibili, è vero, parlava di Villa Rotary. È ancora troppo poco, i risultati si vedono perché ci sono stati sforzi da parte di tutti i soci delle varie associazioni, sforzi in termini di tempo, in termini economici, ma oggi ci servono ancora più risorse e quindi noi questo chiediamo, maggiori risorse.